Io per il 7 aprile, giornata mondiale per la salute, partecipo così. Voglio dire che c'è un virus mortale che è il capitale. Il coronavirus passa, ma il capitale no. Ora stiamo tutti e tutte a calda. Non abbiamo altri strumenti per interrompere questa catena di vittime, questa pandemia che colpisce i nostri anziani e le persone più fragili. Ma domani tutti in piazza. Le disuguaglianze mietono vittime a casa nostra, a casa loro, ovunque. Per cui ricordo a tutti e a tutte che la salute è soprattutto dignità, un lavoro giustamente retribuito, una produzione compatibile con l'ambiente, un ambiente salubre e libertà. Viva la sanità pubblica!